Prima di iniziare questo video, che tra l'altro è senza parole, volevo ricordarvi, anzi volevo comunicarvi che il 7 gennaio, quindi il giorno prima di tornare a scuola, sarò in piazza Matteotti a Bellaria, Igea Marina, in provincia di Rimini, a fare un evento con voi. Vi aspetto alle 15.30 e non vi preoccupate per il freddo, perché saremo sotto una termostruttura con riscaldamento. Ci vediamo a Bellaria, Igea Marina, che è praticamente lo stesso paese, in piazza Matteotti, il 7 gennaio. Ragazzi, ho fame, evento più unico che raro, ma finalmente mi avete spiegato come prendere questa benedetta babysitter. Ciao amici, mi saluto a mia fatta biscottata, perché sono a dieta, e la dieta comprende il fatto che io non posso mangiare molta cioccolata, molte cose strane, e quindi mi accontento della marmellata. Allora, finalmente, grazie, mi avete spiegato come assumere questa babysitter, perché come potete vedere ho dei problemi, molti problemi con i bambini. Diciamo che non riesco a stare dietro sia al mio lavoro, che a loro, che al cane, che al gatto, molto spesso succedono cose strane in casa mia, in più ho il vampiro che mi mette ansia. Quindi, ho deciso di prendere una babysitter, grazie al vostro aiuto, e ora mi avete spiegato come fare. Quindi, torniamo nel nostro giochino, mentre me la stavo facendo paretemente addosso. La stai entrando dalla piscina, che stava dormendo. Uh, c'è una bella cacca di cane qua. Ah, ci pensi tu, amore mio, a raccoglierla e buttarla via. Dai, buttala via, amore. Eh, Zacco doveva andare in bagno, scusalo, povelino, eh. Non sei andato? No. Voglio mai giocare con le bambole? Ancora tu con sta responsabile. No, che dai che la schiaccia, raccogli che la schiacciano i bambini, bravo. E adesso tu, però, piccola, ma hai un po' rotto le palle. Allora, Sasha, sei teso perché... Eeeh, era un po' di cacca. Allora, facciamo una bella cosa. Prima di sgredare Dorothy, mi avevi detto, clicca sul telefono. Chiama per un servizio. E adesso, ecco qua, pizza a domicilio, servizio pulizia occasionale, continuativo, servizio di riparazione, oh, babysitter. Sessanta, eh, ok, dieci all'ora. Chiamiamola babysitter, ragazzi, perché mi serve assolutamente e mi sa che mi serve anche una donna delle pulizie. No, Arturo e Kevin stanno usando la console del DJ da Tudor. Oh mio Dio, se lo sa Tudor, mi uccide, mi uccide. Grazie alla richiesta delle cure per murose spa, la persona incaricata arriverà domenica al 9.53. Meno male, arriva tra dieci minuti, ti prego, vieni che ti faccio conoscere i bambini, devi farmi tutta la casa. Poi chiamiamo anche la donna delle pulizie. Sasha è molto imbarazzato perché... Se l'è fatta addosso. Mi dispiace. Ah no, non è Sasha, questo è Tudor. Vabbè, Tudor se l'è fatta addosso, vai, cavoli tuoi. Sasha invece è felice e guarda il tappeto perché chi... Ah no, è felice perché guarda la sua bambina che gioca col tablet. Blocca subito, disattiva le applicazioni per bebè. Ehi, non iniziamo, te, un anno già col tablet, non scherziamo, eh. Allora. Ehi là, sono Prisha, è arrivata Prisha, la nuova visita, il piacere. So fare di tutto e anche piuttosto bene, so giocare, cucinare e dare lezioni. Io non ho nemmeno problemi a cambiare pannolini e a pulire pasticci quando serve. Oggi ci divertiamo. Eccola Prisha, ciao demanin. Ciao Prisha, sei un po' altezzosa? Allora Prisha, ti presento i tuoi bambini. Vediamo che cosa fai da sola. Oh, sono contenta. Sasha è giocoso e gioca col suo piccolo. Oh, subito. No, guardate raga, Chloe è diventata amica di Zaco. Scusa, fermo, 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 fermo. No, mi hai spaccato la casa delle bar. Se ti vede Dorothy, che tra l'altro non ci credo. C'è Dorothy che sta facendo le pulizie da sola. Sasha ripara la stanza. Adesso, se no, Dorothy ti uccide. Muoviti prima che ti veda. Bravo, dai due martellate. Demani, facciamo qualcosa o ti pago per niente? Fammi capire. Allora, vediamo con la camminata altezzosa che cosa fa. Va a letto dai bambini e... E? Vogliamo fare qualcosa? Sì, vogliamo fare qualcosa. Cioè, non ho capito. Ha poteri psichici e ha portato la bambina a letto soltanto con il pensiero? E adesso se ne va già? Oh? No, aspettate. Dove sta andando sta babysitter? Ah, va da Dorothy. Ho guardato in Zaco il tablet. Cosa fai? Me la sgridi già? Ah no, più. Ah, la sta aiutando a fare i compiti. L'aiuta anche a fare il combello con Tudor di fianco che dorme. È fantastica questa cosa. Però vedo più, più. Mmm, con sta babysitter direi che inizia a piacerci. Poi, a proposito di trovare... Farci aiutare. Hai svolto i compiti in modo impeccabile, Dorothy. Brava. Ciao, ciao. Vediamo. Si danno anche il 5. Brava, Dorothy. Allora, facciamo così. Chi del YouTube per i compiti l'abbiamo appena fatto, parla dei sogni. Vediamo quali sono i sogni di Dorothy. Troppi più con questa babysitter che è appena arrivata, eh? Piccola Dorothy. Non mi farà arrabbiare. Intanto guardate che meraviglia. Il mio cagnolino, quanto è bello. Arturino qui e Zaccolino qui. Che belli. Allora, io sono flertante mentre guardo mio figlio. Chi non sarebbe flertante guardando il bambino? Sasha è addormentato. L'ho visto che io sono flertante. Andiamo a svegliare Sasha dentro nell'idromassaggio. Vorrei un'altra fetta biscottata. E mentre io decido di andare da Sasha, Kevin è furiente. Ma che strano, facciamo così. Sabri, mettilo a letto. Intanto da Sasha ci andiamo dopo. Sento russare. A parte di russare tra questi tre tromboni qui. Dai, forza, andiamo. Allora, qui voi avete avuto un taglio. Perché praticamente mi si è aggiornato The Sims. Così a caso. Ha voluto aggiornarsi. Quindi speriamo che mi si sia risolto qualche intoppo. Che ogni tanto io mi frezzavo, mi bloccavo. Non so che cosa possa essere successo. Ma ora lo vedremo. Quindi ricominciamo a giocare. E vediamo se io mi smuovo un po'. Oh, sì, era un bug. Ci siamo sistemati. Voi non lo sapete? Ma io sono stata per un quarto d'ora. ferma così a Pino nella vasca di domassaggio. Mentre Sasha mi parlava. E io ero bloccata così a Pino. Non capivo che problemi potesse avere il mio personaggio. Ma forse aveva bisogno di questa sistemata. E qui blocco un attimo il video. Perché lo stavo editando. Ma ragazzi mi è venuto in mente adesso che in realtà è sicuramente colpa del vampiro che mi ha fatto qualcosa di ipnotizzazione. Quindi il mio non era un bug. Era sto vampiro che mi ha ipnotizzato. Rimanevo ferma. Come faccio a sistemarmi? Ma mi date voi una mano? Chloe ha molta fame. Ricordo di nutrirla prima che venga portata via. Scusami. Ma ho preso una babysitter. Ed è la babysitter che dovrebbe dar da mangiare a mia figlia. Se arriva l'assistente sociale chi vede che ha due genitori. L'aiutante tutor, la babysitter e la bambina non mangia. Nel senso non vorrei esagerare. The Benny? The Benny? The Benny? Vuoi aiutare al posto che lamentarti? Jade? Che cosa vuoi? Jade è innamorata di me. Chiuditi. Allora. Non riesco a capire una cosa. Questa si è messa a fare cavoli suoi. Quando io la pago fior di dollari sims per aiutarmi con i bambini. Questa ha fame. Povera Crista deve mangiare da sola. Tra poco mangia le crocchette del cane. Già lo so. Non so. Ne assumo un'altra. Provo a assumere due babysitter. Magari succede che si prendano cura dei bambini. No. È l'unica cosa che mi viene in mente. Io adesso provo a assumerne due. Allora. Proviamo. Chiama per un servizio. Io ne assumo due. Ne ho chiamata un'altra. Se adesso non mi danno a mangiare i bambini prima che arrivi agli assistenti sociali. Non so che cosa fare. Veramente c'è da... Stiamo subentrando ridi... Cosa vuole? Ho saputo la tua amicizia con Prish. Ma guarda cosa vuole Jade. È gelosa delle mie amicizie. Ti ho detto che non devi venire Jade. Ho chiamato un'altra babysitter. Arriverà al 18.02. Quindi tra 12 minuti arriva una seconda babysitter. Perché la mia ti sta facendo i cavoli miei in camera. Mentre io ho i bambini in piscina. E io dormo. Che possono tranquillamente annegare dentro. E lei se ne frega. Perché devi stare al computer. La mia babysitter ha 70 anni. Non sa neanche cos'è in internet. Ma lei deve stare al computer. Come vai ragazzi ho paura. Se mi cade la bambina. Ecco. È meglio che non dico che cosa succede. Allora Chloe. È molto molto triste. Perché ha fame. E perché è stanchissima. Ha preso delle uova e le ha sbattute per terra. No Chloe. Mangiale pure le uova. Mangiale uova e il toast. Mangiale amore. Che hai tanta fame. Da sola. Bambina di un anno. È andata a prendersi le uova e il toast. Perché i genitori e la babysitter se ne fregano. E tra l'altro è anche stanchissima. Quindi la facciamo mangiare. E già che ci siamo. Dopo le facciamo fare un pisolino. Qua. Nella piscina. Certo fuori. Così poi mi arriva il maniaco. E mi rapisce la bambina. Sto qua a controllarla. Sto qua. Sto qua. Io non mi muovo. Allora è arrivata sto babysitter. Dovrebbe essere arrivata la seconda babysitter. Però io non la vedo. Oh io ti ho comprato babysitter. Può prenderne due? O no? Perché magari ho fatto un errore. Non può. Non lo so. In teoria doveva arrivare un'ora fa. Mi sa che non si può prendere due babysitter. Allora. Ce n'ho una che non fa niente. Poi la babysitter non la posso neanche comandare. Perché non ho i comandi qui sotto. Quindi lei si prende 10 euro all'ora per non fare niente. Stare lì così a guardare. Bello. Complimenti. Bella. Grande baby. Grandissima baby. Digli qualcosa. Mordi la babysitter. Bravo. Le sta bene guarda. Mordi la ma forte. Falle male. Mordi la. E cagale anche addosso. Bravo. Così si fa. Non ti sgrido neanche perché hai fatto bene. Cioè in realtà non si fa. Però quando ci vuole ci vuole. Chloe fa il... Ma guarda il mio amore Dorothy che fa compagnia alla mia piccolina. Allora. Adesso. Abbraccia la tua sorellina. E poi. Andiamo in casa che ho paura dei maniaci qui fuori. Eh. Capito? Dai. Abbracciatevi un po'. Brave sorelline. Kevin Giulia ha molta fame. Ricorda di nutrirlo prima che venga portato via. Cura del bebè. Dagli del cibo. Io. Devo dargli del cibo. Io. Prendiamoci conto. Tu dove sei andato a lavoro? Come ti sei permesso di andare a lavoro che io ho bisogno di te? Io... Boh. Non lo so. Oh. Sta facendo qualcosa sta signora con il giubbotto con i gatti. Sta pulendo la sporcizia. Andando a prendere le cose che sono in giro per la casa con la polvere. Con i rifiuti umani. E non so che cosa altro. Ah forse sta andando a prendere questo piatto. Che tra l'altro birlucica da quanta fame aveva la mia povera bambina. Vabbè. Dettagli. Io li dolci guarda. Cioè non sarei mai una mamma cattiva che si dimentica dei propri figli eh. Sacco è tristissimo. Dobbiamo modificarlo. Amore. E Sasha sente che c'è una puzza di qualcosa. Sicuramente ecco da dove arriva la puzza. Dai. Cambia sto bambino. Cambia il pannolino. Non vedo l'ora che cresciate di qualche anno e non abbiate anche voi più sto pannolino. Adesso gli verrà il disgusto perché Sasha è uno schifosetto. Guardate. Dai. Cambianelo. Kevin Giulio è diventato un buon amico di Sasha. Non un buon figlio. Un buon amico. Sasha si sente energico. E adesso va dall'altra piccoletta. E... Amore parla con lei. Allora dai anche a lei del cibo che ha fame. Tanto i miei figli hanno sempre fame. E ora sono io col mio piccolo bambino che lo guardo e non me lo cago popo di striscio. Facciamo qualcosa insieme? È stanchissimo. Vediamolo. Possiamo far mangiare sto bambino e metterlo a letto? Non ci vuole tanto. Non ci vuole tanto. Io sto andando a letto per i fatti miei. Ho preso da babysitter. Non fa niente. Non c'è un asilo. Non si possono mandare all'asilo nido sti bambini. Vogliono una pizza. E allora sapete che cosa li facciamo fare? Chiama per un servizio e ordiniamo la pizza a domicilio. Pizza al formaggio. La diavola con pancetta canadese. Al formaggio. È giusto perché è un po' come nella vita vera. Quando io non ho voglia di cucinare, chiamo Deliveroo e mi faccio portare da mangiare. Vabbè, sono dettagli. Beh, una pizzata in famiglia è la prima volta e non era mai successa. Quindi ci sta. Kevin! Cosa stai facendo? Non vuole un tost e pancetta, tranquillo. Tanto adesso arriva la pizza. Tanto non è fuori i capricci. Allora, tu, precisamente. Che cosa stai facendo? Licenzia. Eh, io... Questa qua veramente... La licenzia ne assumo un'altra perché non esiste, eh. Ma guarda, si fa i cavoli suoi. Allora, mi dispiace ma sta babysitter è durata poco in casa mia. Quindi, Sasha vieni qua, prendi la babysitter e licenziala subito. E ne troviamo un'altra. Perché questa non esiste, eh. Non esiste. Ah, vediamo un po' po' fiero come la licenzia. Devi guardare lei, no? Tua figlia. Gli ha dato anche del rifiuto dell'immondizia. Sembra che sia tutto a posto. Fanno 120 euro per il servizio. Non hai fatto niente. Hai messo dei panni da lavare nella lavastoviglia. E basta. E se ne va. Meno male, guardate. Beh, diciamo che la babysitter è durata molto, molto, molto poco in questo episodio. Io spero che cercandone un'altra ne arrivi una diversa. Perché sennò qui siamo messi molto, molto, molto male, ragazzi, eh. Aiutatemi con i commenti a cercare di capire cosa ne sarò del futuro di questa famiglia. Perché ci sono dei grandi problemi e grandi disagi. Tutto l'ho guadagnato 216 dollari. Così la babysitter la paga lui la prossima volta. Io moro i miei, aspettate i vostri commenti. E vi mando un bacio. E mi raccomando, aiutatemi. Perché conto sul vostro aiuto. Ciao, puzzoni. Ciao, ciao.